Scarpe rosse in cammino contro la violenza sulle donne, un simbolo evocativo che parla di una femminilità violata, deturpata. Scarpe tinte di un rosso sangue strappate dal piede di una donna che non c'è più. E a Barletta, presso l'auditorium della parrocchia Santissimo Crucifisso, un convegno dal titolo violenza di genere, riconoscere, contrastare, prevenire. Aiutare a comprendere i segnali di violenza e dominio da captare, immediatamente sostenere chi li subisce per garantire un cammino riabilitativo. Un momento formativo per riflettere sulla violenza. Anche la Chiesa è chiamata a riflettere questa sera sulla violenza di genere, la violenza alle donne, perché la Chiesa necessita anche di poter gridare che la cultura del silenzio su questa problematica così forte, reale, molte volte nascosta e subida, ha bisogno davvero di essere denunziata. Di prendere coscienza. La Chiesa, questa sera, insieme a una tavola di esperti, riflette perché desidera non solo poter denunziare, ma nello stesso tempo avvicinare le persone lacerate, isolate, paurose, rassegnate da questa problematica così forte. Un lavoro di concerto tra comunità cristiana e figure istituzionali per creare una rete di sostegno capace di tutelare chi subisce violenza. È un ruolo che può avere una duplice funzione. Uno è quello di assistenza quando si verifica l'episodio di violenza e l'altro è quello di prevenzione, organizzando e stimolando la società come si sta facendo in questa occasione. Quello dell'assistenza è un ruolo molto importante. Si agisce molto attraverso anche le associazioni che in qualche modo collaborano, come l'osservatorio Giulio Rossella, con le amministrazioni comunali. E allo stesso tempo si pone in essere tutta una serie di attività che diventano necessarie per il supporto innanzitutto psicologico e anche di mediazione di quelli che sono i contrasti tra l'uomo e la donna. A Barletta un convegno che complice la presenza di illustri relatori tra avvocati e pediatri ha voluto illustrare alla platea presente quali gli strumenti a disposizione delle donne intenzionate ad urlarle a mondo il proprio dolore e trovare giustizia. Un fenomeno, il femminicidio, da contrastare grazie a una vera rivoluzione culturale. Siamo operative sul territorio dal 1995. Il comune di Barletta ha siglato una nuova convenzione a gennaio e ha quindi dato impulso a nuove attività. Il nostro centro è operativo tutti quanti i giorni e offre un servizio a 360 gradi a fianco delle donne. Noi costruiamo insieme alle donne il loro progetto di fuoriuscita dalla violenza. E accompagnate in questo percorso le donne intraprendono una nuova vita per loro stesse e per i loro figli, spesso vittime di violenza assistita.